Nessun ripensamento del mercato del sabato verrà spostato nella zona nord di Avezzano. Presentate le stagioni di prose musicale, programma al Teatro De Marsi. Chirurgia lamellare all'ospedale di L'Aquila, avanzata tecnica che sostituisce gli estratti malati dell'occhio. Micron Technology sceglie nuova sede indipendente, il trasferimento avverrà il prossimo anno. Cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Dunque, nessun ripensamento da parte dell'amministrazione comunale di Avezzano in merito alla nuova localizzazione del mercato del sabato, per cui già da domani, sabato, verrà spostato nella zona nord della città. Perché è arrivato il termine di un confronto tra gli amministratori comunali, con il capo del sindaco Gabriele De Angelis, i tecnici comunali e le associazioni dei commercianti. Le organizzazioni che tutelano di ambulanti hanno spiegato al sindaco le problematiche che si potrebbero riscontrare nella zona nord della città, ma oltre alle rassicurazioni, chiaramente sulle disposizioni adottate, non ci sono stati passi indietro. Il mercato del sabato si svilupperà tra Piazza Nardelli, dove si trova la Campana della Pace, e via Colbe, da via Cavaliere di Vittorio Veneto, fino alla rotatoria che conduce al liceo Benedetto Croce. Sperimentazione durerà un mese e partirà da metà ottobre. I problemi potrebbero essere riscontrati proprio con le scuole e con la viabilità locale, che inevitabilmente subirà delle variazioni per la presenza di decine e decine di stand, che verranno aperte dalle prime ore del mattino nelle strade. Tanto domani gli ambulanti hanno deciso di incrociare le braccia. Ci opereranno occupando il loro posto, ma senza aprire le bancarelle, per dire no a questa decisione, o che, a loro avviso, danneggerà fortemente le attività. Alla protesta hanno già dato la loro adesione Conf Commercio Imprese e Comitato Centro Città, che abbasseranno le serrande per dire no, non solo al dislocamento del mercato, ma anche alla pista ciclabile e all'isola pedonale permanente. E restiamo in argomento. I consiglieri comunali di Avezzano, dell'opposizione, Giovanni Di Pangrazio, Cristian Carpineta, Gio Franco Gallese, Mario Babbo, Domenico Di Berardino, Roberto Verdecchi e Francesco Ligi, invitano i cittadini di Avezzano a partecipare attivamente alla manifestazione di protesta, indetta per domani, sabato, 29 settembre, davanti al Palazzo Municipale e dall'Associazione dei Commercianti Ambulenti, in dissenso con le scelte dell'amministrazione sulla questione del mercato settimanale. Una protesta si specifica in una nota, indirizzata soprattutto a questo sindaco e al suo modo di amministrare e fare politica in città. Un sindaco che non ascolta i cittadini, lontano dalla città, che cala dall'alto le sue scelte, imponendole soltanto e il suo modo di fare. Il sindaco deve innanzitutto ascoltare i cittadini. La politica comunale d'altronde fatta di ascolto e confronto, deve incardinarsi sempre sulla disponibilità verso chi la città la vive, la abita e la fa crescere col proprio lavoro e con le proprie iniziative. Per questo domani 29 settembre, dalle 9, tutti noi saremo davanti al Palazzo Municipale di Avezzano, al fianco degli avezzanesi e dei commercianti, concludono i consiglieri comunali di Avezzano per opposizione. È stata presentata nel corso di una conferenza stampa le stagioni di prosa e musicale in programma al Teatro dei Marsi di Avezzano. Vediamo il servizio. Il foyer del Teatro dei Marsi di Avezzano ha ospitato la conferenza stampa di presentazione delle stagioni di prosa e musicali 2018-2019. In particolare si tratta di 14 spettacoli di prosa e 15 di musica con artisti di chiara fama, tra cui Simone Cristicchi, Ambrangiorini, Edoardo Leo, Luca Argentero. Le novità della nuova stagione musicale di prosa sono state illustrate dai componenti dell'Ufficio Teatro, Luca Di Nicola e Roberta Di Pascazio, dall'attore Lino Guanciali, nella sua vesta di coordinatore dell'Ufficio Teatro del Comune di Avezzano, dal sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, dal maestro Massimo Coccia, direttore dell'Associazione Culturale e Armonia Novissima, dall'assessore alla cultura per Luigi Di Stefano e dal portavoce del sindaco Roberto Alfatti Appetiti. Abbiamo deciso di puntare molto su queste due stagioni e soprattutto sul teatro, investendo di più circa il 40% per creare una offerta importante, ha spiegato il primo cittadino Gabriele De Angelis. Abbiamo rivisto leggermente il costo degli abbonamenti, che in ogni caso restano al di sotto della media degli altri teatri italiani. Ringrazio Lino Guanciali, che a titolo gratuito si è impegnato tanto per questo teatro e per la sua città. Un plauso va anche al maestro Massimo Coccia, che tutti conoscete per le sue iniziative nella città. È per noi una garanzia di qualità con eventi sempre di livello. Una stagione di prosa che prenderà il via il 23 ottobre con lo spettacolo Macbethu di Alessandro Serra e terminerà sabato 4 maggio con lo spettacolo interpretato da Luca Argentero con la regia di Edoardo Leo. È questa la vita che sognavo da bambino. La stagione musicale invece inizierà domenica 7 ottobre con la performance di Alice, che canterà De Gregori, Dalla, Battiato, Battista e De Andrè. Si concluderà il 29 marzo con la PFM Canta di Andrè. Ora le interviste che abbiamo realizzato nel corso della presentazione. Allora, si torna sempre sul luogo del delitto, credo con piacere. Sì, sì, sono delitti passionali, diciamo. Il primo amore è il teatro, per te è un motivo di soddisfazione. Puoi portare il tuo contributo alla tua città. Sì, per me è una priorità. Poi il nostro è un teatro importante ormai. Lo è da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. La proposta delle ultime stagioni è stata sempre increscendo come qualità di offerta e l'apice lo tocchiamo quest'anno. Quella di questa, della 18-19 forse è la stagione più bella, piena di contenuti e importante che sia stata ospitata finora qui in teatro. Una stagione rispetto alla quale bisogna mostrarsi all'altezza, sia dal punto di vista della capacità promozionale del comune, del teatro, sia anche da parte degli spettatori. Adesso in conferenza stampa lo diremo, noi abbiamo fatto ogni sforzo per rendere più agevole e confortevole possibile la vita dello spettatore avezzanese. Abbiamo due formule di abbonamento, abbiamo spettacoli situati in periodi in cui è più semplice andare a teatro. Insomma, stiamo cercando di muoverci in maniera da soddisfare le necessità del pubblico e anche in qualche modo in modo da alzare l'asticella. Un motivo di soddisfazione da parte tua, anche perché una struttura come questa meritava di essere portata all'attenzione anche a livello nazionale. Sì, avessimo qui ad Avezzano una sala da 300 posti, l'ho detto spesso, probabilmente anche lo sforzo fisico di cercare di esserci così tanto non l'avrei fatto, ma non perché una sala grande e una sala piccola valgano di meno, semplicemente perché il valore relativo di questo teatro da 800 posti nella nostra regione in questo momento, nel centro Italia tutto, è tale per cui equivale per me un po' una chiamata alle armi, cercare di dare una mano ad occuparsene, perché questi sono tutti gli effetti, uno degli impianti più importanti, non soltanto della nostra regione, ma di tutta quest'area del paese. Per cui bisogna programmarvi delle cose importanti, bisogna anche dotarsi degli strumenti gestionali utili affinché il teatro possa camminare con le proprie gambe, che è una cosa della quale stiamo parlando da molto con il Comune, sperando di riuscire in tempi brevi a farcela. Per concludere una sola battuta, soddisfazione per dare il tuo contributo, dal punto di vista professionale insomma, un momento felicissimo. Sì, toccando ferro insomma, è un momento in cui uno si può anche permettere di dire di no a qualcosa, io nei prossimi mesi farò soltanto teatro, con l'ATV prendo un po' di stacco, visto il livello un po' raggiunto, e niente insomma, tocchiamo ferro ma bene così. Assessore Di Stefano, un motivo di soddisfazione come assessore poter partecipare e dare il contributo come comune per manifestazioni così importanti. Sì, la stagione teatrale e la stagione musicale del Comune di Avezzano è una stagione complessa da organizzare ma abbiamo fortunatamente due istituzioni, l'istituzione teatro e soprattutto Armonia Novissima che lavorano bene in modo sussidiario e rendono la città di Avezzano una città dove si produce cultura veramente tutto l'anno e di alta qualità. Un motivo di soddisfazione è anche poter contare sulla collaborazione importante di Lino Guanciale. Lino Guanciale è ormai veramente la nostra punta di diamante, riesce a fare le due cose, è attore ai massimi livelli italiani però è anche direttore del teatro e lo fa nel migliore dei modi, c'è un calendario bello, complessivo, diciamo molto variegato che riuscirà a soddisfare tutti i bisogni dei tanti frequentatori del teatro dei Marzi. Come comune, insomma, dal punto di vista culturale è un momento del lamentare, state facendo il possibile? Stiamo lavorando tanto, certamente tutto è migliorabile però stiamo lavorando perché come assessore alla cultura devo dire che sono molto soddisfatto, sono circondato di tanti operatori culturali che mi coadiuvano, con i quali ci confrontiamo ogni giorno. Armonia Novissima e l'istituzione di teatro sono le punte di diamante ma ci sono tante altre istituzioni sia nell'ambito della prosa che nell'ambito della musica che rendono Avezzano una città dove si fa tanta buona cultura. C'è un impegno non indifferente, una riproposizione di quello che state facendo da anni, per quest'anno invece le novità. Sì, quest'anno sarà la dodicesima edizione della stagione musicale del teatro dei Marzi per quanto riguarda l'associazione Armonia Novissima in collaborazione con il comune di Avezzano. Per quanto riguarda le novità, seguendo appunto come dicevi la struttura più o meno anche delle edizioni precedenti cioè che presenta multidisciplinarietà all'interno appunto del linguaggio musicale quindi abbiamo compresenza di più linguaggi artistici, spesso la musica unita al cinema, unita al linguaggio teatrale unita ad immagini e così via, ma soprattutto generi musicali appunto differenti apriremo e chiuderemo ad esempio con la musica d'autore, con il pop, la musica pop d'autore con Alice all'inaugurazione che interpreterà cantautori italiani una storia un po' del cantautorato italiano e invece la premiata Forneria Marconi alla fine della stagione che dedicherà un concerto interamente a Fabrizio De Andrè nel ventennale, nel 2019 appunto ventennale della morte all'interno del cartellone avremo poi linguaggi più tradizionali come l'opera lirica quest'anno Cavalleria Rusticana e Pagliacci quindi in doppia, diciamo, nella stessa serata, quindi un abbinamento di due opere e avremo la bella addormentata di Chagoschi con il balletto di San Piero Burgo che già è stato lo scorso anno qui con il Lago dei Cigni e avremo, ecco, a livello di, l'ambito di musica e cinema uno spettacolo molto interessante su Charlie Chaplin con immagini quindi del cinema muto di Chaplin e musiche invece originali, contemporanee appunto in chiave jazz eseguite in simultanea dal vivo e abbiamo poi il linguaggio sinfonico con due grandi compagini sinfoniche una italiana e una ungherese e con la quarta sinfonia di Mahler e un concerto sinfonico appunto con più autori avremo modo nel corso della stagione di presentare Momano di volta in volta di vari appuntamenti però diciamo che come Armonia Noissima avete un collaudo non indifferente però diciamo anche la collaborazione di personaggi importanti per voi ha facilitato un po' questo percorso mi riferisco in particolare al Comune e a Lino Guanciale Sì, certamente, ormai si è avviata questa strettissima collaborazione per cui anche non è un caso che questa mattina verrà presentata appunto la stagione musicale e la stagione di prosa insieme c'è tutto un lavoro di coordinamento per consentire al Teatro dei Marzi appunto di acquisire sempre più diciamo un'immagine decisiva direi anche per lo sviluppo culturale della città e di tutto il comprensorio Un'avanzata tecnica che permette di sostituire solo gli strati malati dell'occhio lasciando inalterati di altri tessuti è la chirurgia lamellare dei trapianti che l'ospedale di L'Aquila ha introdotto negli ultimi giorni un'importante evoluzione della procedura chirurgica oculare utilizzata con successo in due trapianti grazie alle nuove modalità adottate nel laboratorio della banca degli occhi del San Salvatore che tra l'altro proprio nei giorni scorsi ha ottenuto la riconferma della certificazione del sistema qualità in base alle norme ISO 9001-2015 Le nuove procedure del trapianto e l'attestazione di qualità coincidono col potenziamento della perechiettura e con la nuova collocazione logistica del reparto di oculistica di L'Aquila che da un paio di mesi si è spostato nell'edificio L2 dell'ospedale dotato di tre sali operatorie di nuovi ambulatori e confortevoli sali d'attesa L'unità operativa Banca degli Occhi e Microchirurgia Oculare diretta da Germano Genitti è organizzata in due settori la tissue banking e l'attività clinica ambulatoriale chirurgica Il primo riguarda la conservazione e la distribuzione dei tessuti donati la cui doniettà al trapianto viene accertata dalla Banca degli Occhi e il settore clinico e chirurgico opera invece nell'oculistica ospedaliera e sicura oltre 10.000 prestazioni ambulatoriali e 2.000 interventi chirurgici l'anno tra cateratte, glaucomi, distacchi di retina chirurgia bitreo-retinica trapianti e iniezioni per maculopatie Banca degli Occhi e Microchirurgia Ocpedaliera lavorano in stretta sinergia e ciò in virtù della disponibilità di tessuti idonei nella banca permette di eseguire i trapianti di cornea ed impiantare i segmenti di membrana amniotica per le patologie più complesse nella superficie oculare potendo contare su tessuti locali senza dover ricorrere ad approvvigionamenti presso altre banche italiane e con il trasferimento all'edificio alle due l'unità operativa può ora contare su tre sale operatori e per complessivi 500 metri quadrati nuovi spazi operativi, macchinari moderni nuove tecniche nel trapianto e conferma della certificazione di qualità dichiara Ginitti rappresentano un impulso decisivo per la nostra equip al fine di migliorare ancora in livello delle prestazioni ambulatoriali e di chirurgia oftalmologica ed è di 11 milioni di euro il fondo messo a disposizione delle imprese turistiche abruzzesi attraverso il finanziamento della legge 77 del 2000 che prevede interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore il programma operativo 2018 il cui bando sarà pubblicato sul Burat nei prossimi giorni è stato illustrato questa mattina a Pescara dal presidente vicario della regione Giovanni Lolli e dall'assessore al turismo Giorgio D'Ignazio l'obiettivo del piano è accompagnare gli investimenti finalizzati all'aumento degli standard di qualità che riguardano la riduzione del rischio sismico delle strutture ma anche la sostenibilità ambientale con l'utilizzo di tecnologie per l'efficientamento energetico e la riduzione dei consumi l'accessibilità per i turisti con disabilità motori e sensoriali il riutilizzo del patrimonio delizio esistente la diffusione della cultura e della qualità con l'acquisizione di marche di qualità riconosciuti a livello internazionale destinatari degli interventi sono gli alberghi con almeno 7 camere le residenze turistiche alberghiere con almeno 7 unità abitative alberghi diffusi i campeggi e i villaggi turistici le case per ferie le residenze di campagna di osteri della gioventù i rifugi montani di escursionistici di stabilimenti balneari nella valutazione dei progetti sono previste poi premialità per i comuni del distretto del Gran Sasso della Magdiela Madre e aree interne nelle prossime settimane ha spiegato Lolli porteremo sui tavoli nazionali una serie di iniziative delle quali abbiamo già parlato con il ministro D'Ignazio invece ha posto l'accento sull'importante opportunità che questo bando rappresenta per il settore turistico abruzzese proprio per incentivare la presentazione delle domande ha sottolineato abbiamo già calendarizzato una serie di incontri specifici sul territorio mentre gli uffici del Dipartimento del Turismo della Regione come sempre saranno a disposizione degli operatori per fornire tutta l'assistenza nella predisposizione delle istanze la giunta regionale su proposta dell'assessore alle politiche della casa Lorenzo Berardinetti ha deliberato la ripartizione del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per l'anno 2018 il fondo a sostenere famiglie e destinatari di un atto di intimazione distratto per morosità con sopravvenuta impossibilità provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale spiega l'assessore Lorenzo Berardinetti si tratta di un valido aiuto economico per le famiglie che sono in difficoltà la nostra amministrazione regionale conclude sempre dato massima attenzione a questo tema in particolare sostenendo le politiche abitative e la giunta ha previsto quindi un finanziamento complessivo di 660.752.059 euro ripartito ai seguenti comuni Avezzano 48.977.31 euro Chieti 62.853.96 euro Francavilla al Mare con 28.724.02 euro L'Aquila 84.498.65 euro Seguono Pelanciano con 42.305.84 euro Monte Silvano 60.089.82 euro Ortona con 27.864 euro Pescara con 143.424 euro Spoltore con 21.596.91 euro Sulmona con 29.318.33 euro Teramo con 64.042.59 e vasto con 47.056.86 euro I comuni potranno quindi utilizzare anche le risorse residue a valere sulle ripartizioni delle precedenti annualità Spetterà agli enti individuati predisporre i bandi per l'erogazione delle risorse L'Arabruzzo a distanza di alcuni giorni dal deposito dell'ordinanza con la quale ha ritenuto insussistenti le dodianze del WWF nei confronti del calendario venatorio 2018-2019 non ha concesso la sospensiva avanzata questa volta dalle associazioni venatorie FederCaccia Abruzzo Federazione Italiana della Caccia Salvo dunque il calendario venatorio regionale le associazioni avevano presentato ricorso per l'annullamento di alcune parti del calendario venatorio poiché modificato ed integrato invocandone la sospensione anche a causa della serita motivata e non consentita esclusione delle specie cacciabili canepidia codone mestolone moridione frullino combattente moretta già su questo ultimo ricorso della FederCaccia altre associazioni come Enal Arci e Liberacadio Caccia nel prenderne le dovute distanze invocavano un comportamento maggiormente responsabile e collaborativo da parte dell'associazione proponente ebbene con un articolato decreto il Tar ha rigettato anche questa richiesta di misura cautelare monocratica che avrebbe bloccato la stagione venatoria già in corso anche in considerazione del fatto che i competenti organi regionali sono in procinto di risaminare il calendario venatorio con riguardo alla cacciabilità delle specie elencate l'ennesima pronuncia favorevole all'amministrazione regionale che nonostante i continui ricorsi la continua ricerca della strumentalizzazione della polemica ha detto l'assessore alla cacci Dino Pepe è riuscita anche grazie al lavoro dei propri uffici ed in particolare dell'avvocatura regionale ad invertire una tendenza sfavorevole che la vedeva soccondere nei giudizi dei discorsi anni ora conclude Pepe c'è il bisogno di comporre armonicamente le differenti stanze intraprendendo un percorso condiviso tra le varie componenti interessate dal nuovo calendario venatorio Micron Technology ha annunciato oggi che la società ha scelto per il suo sito di Avezzano una nuova sede indipendente trasferimento al nuovo stabile situato ad Avezzano nel campus di via Newton 34 avverrà durante la prima metà del 2019 e i dipendenti ritroveranno spazi all'avanguardia per uffici laboratori e aree tecniche oltre ad aree break e servizi Claudio Maris manager delle sedi di Avezzano e Padova ha così espresso il proprio pensiero i gruppi basati ad Avezzano guidano progetti tra i più avanzati e innovativi nel mondo con lo spostamento del sito di Avezzano ad una sede indipendente Micron offrirà ai nostri team altamente specializzati spazi per uffici e laboratori su misura per le loro esigenze ha dichiarato Claudio Mari il sito Micron di Avezzano ospita team specializzati che progettono e sviluppano circuiti di memoria avanzati e organizzazioni di supporto che contribuiscono a progetti e attività in ambito regionale e globale nel nuovo sito i team troveranno un ambiente ottimale e strumenti di lavoro e attrezzature per svolgere compiti complessi che richiedono competenze interdisciplinari velocità e accuratezza di esecuzione collaborazione e comunicazione tra team e ambito globale riconosciuto come uno dei centri di eccellenza locali nello spazio ITEC il sito Micron di Avezzano ha svolto un ruolo importante nella creazione dell'ecosistema dell'innovazione regionale creando e promuovendo una solida rete di collaborazione con università e scuole Micron opera in Italia tramite la controllata Micron Semiconductor Italia ed anche per il 2018 i lavoratori del settore privato compreso quello agricolo impossibilitati a prestare attività lavorativa a causa del sisma dell'agosto 2016 potranno accedere alle misure di sostegno al reddito lo ha stabilito il comitato di intervento per le crisi aziendali il CICAS nel corso dell'ultima seduta preseduta dal consigliere con delega al lavoro Antonio Innaurato la prosecuzione del trattamento di sostegno al reddito permette in questo modo i lavoratori le cui imprese sono ricadenti nei comuni dell'area del cratere sismico e nei confronti dei quali non trovano applicazione l'attuazione degli ammortizzatori sociali di fruire di agevolazione di sostegno al reddito ampliando in questo modo la copertura sociale è una decisione importante ha detto il consigliere Antonio Innaurato perché in questo modo abbiamo garantito copertura reddituale a quei lavoratori del settore privato più deboli le cui aziende risentono maggiormente delle conseguenze del sisma del 2016 Ora l'obiettivo che ci poniamo è di avviare un confronto presso le sedi governative per favorire l'utilizzo di risorse che sono nella disponibilità della regione in favore dei lavoratori dell'area sisma La riunione del CICAS ha anche fatto il punto sullo stato delle risorse disponibili per garantire il sostegno al reddito Per il 2018 le risorse utilizzabili ammontano a 14,3 milioni di euro tutte da destinare ai lavoratori delle imprese del settore privato mentre per i titolari di partita IVA dagli studi professionali ai collaboratori COCOCO risorse si attestano a 15 milioni di euro Quest'ultima categoria di lavoratori è stata individuata dal decreto del governo che prevede l'erogazione di un contributo una tantum dei 5 mila euro nel caso in cui per motivi legati al sisma dell'agosto e dell'ottobre 2016 si è interrotta l'attività lavorativa per i lavoratori delle imprese private come detto le istanze di sostegno e l'arredito per il periodo 1 gennaio 31 dicembre 2018 devono essere presentate dalle aziende alla regione su delega del lavoratore il termine di presentazione delle domande scade il 31 gennaio 2019 Agosto De Santis della mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso in merito agli avvisi di garanzia messi dalla procura di Teramo ha dichiarato fermo restando che crediamo nella presunzione di innocenza e che questi sono avvisi di garanzia riteniamo che sia una prima conferma delle gravissime criticità presenti nei laboratori del Gran Sasso e nell'autostrada 24 questi mesi non solo abbiamo depositato ben 5 dettagliatissime esposti fondato su legge migliaia di documenti raccolti con di accessi adiatti ma abbiamo dato il nostro contributo fattivo alle indagini per quanto non è possibile riteniamo che il lavoro della procura dei carabinieri del NOE e dei consulenti tecnici d'ufficio possa finalmente aprire uno squarcio su una condizione estremamente grave che riguarda 700.000 persone una grande infrastruttura come l'A24 è uno dei laboratori di fisica più grandi e importanti al mondo forse in questi due anni dell'incidente con il diclorometano di agosto 2016 i ricercatori avrebbero potuto tenere un atteggiamento meno arrogante nei confronti dei cittadini soprattutto visto quello che è emerso con gli accessi adiatti dallo stoccaggio regolare di ben 2.992 tonnellate di sostanze chimiche pericolose 1.292 tonnellate di trimetili benzene in boaxeno e 1.000 tonnellate di acqua ragia posizionate praticamente nel punto di captazione delle acque potabili bevute da centinaia di migliaia di persone la quasi completa inadempienza rispetto alle norme della direttiva Seveso essendo i laboratori un impianto a rischio di incidente rilevante completa il quadro con il piano di emergenza esterno per i cittadini scaduto nel 2011 e addirittura il rapporto di sicurezza mai approvato definitivamente la sicurezza deve far parte integrante di qualsiasi progetto solo così è vera eccellenza noi siamo per la ricerca scientifica assolutamente ma tutti i ricercatori sanno o meglio dovrebbero sapere che esistono dei limiti e questa sarà l'ultima notizia quindi il giornale termina qui prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina facebook Antena 2 Avezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci per aver guardato anche oggi grazie e anche oggi grazie grazie a tutti Grazie a tutti.